Vi siete mai baciati voi due? Ah beh, mai mentre l'abbiamo i piatti. Perché è la scena che dovete girare nel corto di Erika? Due che si baciano. Te l'ho detto che rompeva le scatole col suo stupido film. Hai detto a mamma che non ci coinvolgevi, no? Allora non stare addosso ai miei amici con questa idea del cavolo. Non è un'idea del cavolo, solo che mi siano saperlo prima. Differenza fa, tanto state sempre a fare la lotto o a farvi le treccine voi due. E' vero che si sono baciati al liceo? Ma sì, è un classico. Se era un classico, Mattias non se lo scordava. Non è che può andare in giro con l'adesivo sulla macchina. Ho baciato Max in terza, indimenticabile. Mi sei mancata nel weekend. Com'è andata con i ragazzi? Normale. Diciamo che ho intenzione di affidarti un po' più di responsabilità qui da... Penso che l'Australia mi farà bene. Che ci vai a fare là? Non lo so. Cambio aria. È il momento. E come fai con tua madre? Hai notizie di tuo fratello? Sia Jeanette si occuperà di lei. È ora che pensi un po' a te stesso. Mi sento un po' strano in questi giorni. Vedo cose che... che non avevo mai visto. e ho dei pensieri che non avevo mai avuto. Allora Maxime, visto che partirai, Mattias si è preparato una cosina. Max, sarà strano perderti, ma allo stesso tempo ti ritroveremo in modo diverso. Vrendiamo a Max. Certo, a Max. Sì, salutete. Non è possibile che tutto quello che abbiamo costruito da piccoli, noi due, gli amici, il nostro gruppo, ce lo perdiamo così, in un attimo, per una sciocchezza, per niente. Vado! 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 È per via del film, vero? Sara, quel film non vuole dire niente per me. Non volevo neanche farlo, ti giuro. Ma io non so niente. Di che film stai parlando? Non fai che nasconderti. Fai solo questo. Sai, Mattias, uno si pone sempre un sacco di domande. È la bellezza dell'essere giovani. Avere trent'anni. Avere ancora il tempo.